Come vuoi giocare questo game? Ti sta prendendo per il culo, ma si è preso per il culo da solo Full vida è morto Non posso, non sta lì, Vlad e Jarron, muoio Joran shield di Jax per essere forte, prima non ho risentato neanche un auto Pronto Mate, che ti muti così a me non va bene, sinceramente Ma che vuoi? Non va bene E' andato là Qui mi fa banare a Twitch, che ne so io, sei pericoloso No, ho dito quello che cazzo della TVL, oh cazzo Cosa? Non ho capito Nooo Ma sei impazzito, mi hai fatto spaventare, te lo giuro Ma sei stupidino però, aspettami no capra Arrivo col tipo dietro Ma no, come dietro? Sei lontanissimo, mate Mentre tanto loro... Sto arrivando bro, vai, 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 vai Fight, fight Sì, avversari sono veramente patetici Fight, fight No, no Go, go, go V gang ha flashé Ma quindi che hanno fatto? H'ho flashato Diana Jarron Sono patetici sono Ecco cosa sono Immagina se tu non avessi trollato, caspita Se la stanno prendendo con il povero Mordegaiser, capito? Fanno bene perché è unbalanced Se non ci si comporta in questa maniera Volevo solo un po' di cocco, lei Volevo guarda che è successo Bago god Emuali , po 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 Dovevo invadere il loro blue buff? Non l'ho fatto Sono patetico, gano e lupo Non so se mi riuscite i game, questo mi sentirei di dirti Boh Oh cacchierola Germa livello 2 è gancato dopo E trovi ancora Ho preso lo pressure del jungler Ma poi Ho preso lo pressure del jungler Non intanto Pressure del jungler Pressure del jungler Mentre questo che mi è iniziato già male Io adesso tiro dritto Te lo dico adesso Sto iniziando a incazzare E' quello di prima E' quello di prima ancora Se magari la smetti un gameblock Late game te lo carico a questa partita Faccio Faccio No 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 Io non intomo a mate La scimmia di Wukong Letteralmente E' morta O TPW Muore 1v1 con Diana Livello 4 Bravo Perchè almeno fa corsa all'ultimo Allora quel mini l'hanno fa cappata però Io sono molto head rispetto a blood in realtà Ma lì in particolare Quanto meno particolare Io non è che lui Non c'ha cd Allora io dico una cosa Possiamo Ok stella Nevermind Gongo Non male che sennò Ma proprio vai su per fare il better jungle Un livello sopra allo smite Penso un po' Troppo forte tra quello rent Oh Dio Oh Dio Il dive è ok o stai intanto con il sugo Il dive è ok o stai intanto con il sugo Questo non muore però Roma prende la wave Dava top e muore Solido Una bella giocata Miss Diana Ma ce l'ho avuto in periodo Però dicimi che l'ho lo stesso Ah si Guarda come si è messo Close eh Era close Mi fa piacere fosse close Guarda ho reso la piantina qua Motivo top Qui sul cannone Guarda Garland bat Non No No Ok 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 Regallo Mi sta diana eh Sta venendo top A meno che Puoi smettere di trollare È il secondo flash che hinto È il secondo flash che hinto Dio mio È il secondo flash che hinto questo game Mamma mia Sei veramente Incarriabile qua Ma che mates ho Jarvan e Diana Sono entrambi i top V mi viene top e danno a kill a blood Smetti di trovare scuse E gioca meglio Sei patetico Mette 0-4 26 sopra Ma che ha fatto Sam Dio si è salvata A win bot è super nice Allora Diana è fidatina poi Per me Jarvan è top È un'unica l'ingancabile Non utile Penso che abbia flashato Diana Per me Jarvan è top L'unica l'ingancabile Ma Quella chi Sei riportato Sei riportato e sei pure bannato Sto per fare bannare su Twitch Aspetta Dai pusha pusha pure se vuoi Sì sì lo so ma ho pensato di riuscire a giocare meglio Invece quello smite rosso purtroppo tanka troppo E ho tofferto lei Se no che si fa lo togliere È stata una colpa mia qua meccanicamente Fine comunque Va bene va bene Ok No perché non è che mi stanno arzittando top Assolutamente Bisogna lasciare il Drake Sì Da addormenti più Magari da carico con i Drake Se no sembra difficile questa partita Io in realtà sono super strong Però smette rosso Vabbè era per dire ragazzi Una cosa tanto per dire Giorvan era al mid Mi aspettavo in Gajust Poi fosse arrivare Ma i seri top Sicuro c'è Giorvan top 1000% Non andare qua Porca miseria Vlad flash Potrebbe esserci anche Diana Mi rispetto Oh io mi sono dottor proprio il cazzo No ammetti Io Lo dico ma Ragazzi ho venuto il pingat del 05 Vlad ed Non è ed perché ha preso kill da solo Ed perché L'hanno sittato Perché sei patetico No perché l'hanno sittato Ma infatti è scarso in culo Che cosa sei stato buttato con le mani TP bot TP bot Diana Io non ho il TP Non è male Cioè Vgang è un mezzo troll Quindi è bene così Giorvan vatt C'ho fatto il vendemidio? Non credo Sono 9R Sono 9R Mamma mia Malevista Malevista Quella fa Io non posso Difendere la meta Non ho fatto il possibile Adesso cara Ai 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 Trollato Regalo c'ho un morello Un muovo di spirito La killate? Sto come sto davvero entrando Caspita E' una nota che viene affidata Vlad non c'ha HP Non credo arriva C'è cosa arriva? Non credo convenga Cesario Vlad ha appena regalato Oh Ok 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 Eh è stata passiva Io sono fine No pure io sono fine In realtà Cioè io ho 36 No vedo vedo che sei Mentre sei Sei in partita Comunque Non è che sei behind Mi hanno sittato E vai Dito Dai Dito Vai Dito I mo se vai Aff che possono vincere I tuoi Probabilmente E' vero Ma cosa E' vero? I tuoi primi Versa La visione Mi era di gioco Vedo beh carica C'è i soldoni Io faccio Magic pen spirit E Vlad me lo mangio A colazione Forse dovrebbe Da Rilai prima Gervan topside Stranamente Non sai perché topside Perché si amusa Delle free kill Sì sì Dopo che danno Zero code Sfra tutto Credo sia la cosa migliore E' scendi per il drake Ho il tp mate Già Voi nel topside Io ho il tp E' una parola Araldo Metti Io ho il tp Sona C'è 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 Devo 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 Qualcuno Io qua Se non Muoio Ho il tp Sona Devo 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 Per forza Sona Se non Muoio E' morta Sona E' morta Uuu Baby Uuu Baby Te la lascio pure quella Vabbè 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 De mezzo a 5 E poi Guarda qua Guarda che giocatore Faccio l'era Tu vai al drago Vai al drago Anche questo game Sì sì Te l'ho boostata Canelo Sì sì Forse Mi prende Torimidio Sai Pite la Franca Torimidio Tp top Dopo ci prendo Lui così Deve regallare Visto che Non devo regallare Buona Treaddraghi Treaddraghi In 17 minuti Ma quale Giangler Treaddraghi Contro Treaddraghi 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 La suona è più facile Mastery O Mordegaiser Mordegaiser Ma Mastery Non c'ha skillshot Sì però Puoi fare Big play Sì ma non c'ha skillshot Mastery Mordegaiser Ha due skillshot Nel kit Sì ma sono skillshot Ambigui Che tu liti o meno A parte l'itbox Ma Capacità di ingiudizio Facciamo stare Dove fare pure Rely Morto Vukong Sono no R Giangler Ah la top Qualcuno la farma Io so Sto bene Cioè guarda il mio farm Gli amici Sono troppo forte Forza devi tassare Tassare cosa? Non ho testato niente Sto game Ho coperto Quando serviva Che strano concetto Che hai di tassare Possiamo solo giocare Intorno al prossimo Drake Sì Aspettare quello Abbiamo in 3 game Diana flash Ma lei era al top Ho messo Tanta sicurezza Perché sei arrogante Non giochi un champion Off meta In giungla Tipo Pantheon Ci credo È facile Come Mordegaiser Mi scommetto Che anche Mi sono stati Skillshot Nel fight No 1 Perché me l'ha doggiato DR Cioè DE Non giochi un po' Non giochi un po' 1.40 al drago e abbiamo vinto Alltato bot Qua 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 Stai vinti di scappare Stai arrivando tutta la squadra E' un back allora La da flash Io ho la spirit Really good Oh no C'è una share up Io botte non mi viene La facciamo il quarto drake definita Anche questo è vero Minchia la cosa dell'inferno La cosa dell'inferno è so good su di me Diana sta top Vado anch'io top che c'ho il tp e c'è l'inferno Ora abbiamo pensato vero Un po' un peccato Tu quanti punti stai adesso? 110? 150 tipo quasi Madonna sei veramente un fallito Guarda salire in season year Solo early season Faccio il challenger e poi lo metto nel E poi giochi solo con lo smart E lo campi Ci sta quello che ho pensato di fanchia Bravo E noi questi che cantiamo Vi rendi Con i player di bassi fondi Parla per te innanzitutto Dica Passatemi il super Tenno Boris con Twitch premme Per il primo mese di sub Grazie mille bro Benvenuto alle canne di cane Non ci vergogna averlo fatto a te il sub Ma grazie a Dio non l'ho fatto a te Grazie a Dio Ma guarda Meglio un terenas a questo punto Come va? Falla a terenas No Era possibile C'è uno di loro qua che lo sia Diana Ma gli faccio un bella Una bella sorpresa Ah ma guarda che sei andato back Posso andare a farmare Ah 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 Guarda che faccia Non la killa senza rilaia Un po' tostina Hai il tracco infernale se mi interessa Sì secondo me non posso con niente C'è sono qua Cioè hai paura di sono Esmore the Kaiser Ma senza rilaia è veramente tosta per me Io voglio dire una cosa che difende non riesco a fare niente Con un regalo le vado botto Va' così Almeno Posso avere più Possiamo giocare per il bar Come vorrei restare qui se c'è voglia Infatti io ho questo robot Ma Che champion bug Ho inventato tutto il game E poi solo killa Io ho dato qualcosina Due cosine Già eravamo no flash Entro lato Io là non ci dico La zona è ha chiuso tutta Guarda che knowledge Guarda che knowledge Non c'hai tippata perché sapevi che avevamo Sì sì E lo ero sicuro Ma facendo questo Se siete potuti da loro sarebbero scappati Perché è 5 secondi quasi E invece guarda che knowledge Cioè ti rendi conto Ti rendi conto quanto Direi di potarti super fortunato D'avere me come top liner Non male Direi grazie grazie Fai una freghiera ogni sera Direi grazie Che ci hai dato cane come top Speriamo di avere un caldo Prima di tre in chiro Lo chiedo sempre Spero oggi di avere un solo liner come cane Mi auguro E poi invece che succede? Prendi il day game della situazione? Quello il becco Infatti perdo E inizia la losing streak Senti Che vogliamo fare? Tu stai trollando E tu ho fatto una QMF Gli ho fatto 638 di danno Che è tanto È corretto Sono 5 bot Potete fare il Nash Però quanto pare Non si vede gioco a questo gioco Ormai già lo so Quindi Poco c'è l'Helder tra poco 3 minuti Tra poco Manca poco alla rely Manca poco alla rely Posso di pari Se volete tra 20 secondi 20 secondi però Ah MF è morta E hanno tutti i bot E avete vision qua In teoria Quindi Cioè vengono potete andare via 10 secondi io tipo Ecco Diana Stanno arrivando 9 secondi e posso dippare Occhio mate Sei scappato da parte Un po' Forse trollosa Io volevo fightare Con tutti i piedi Ok posso dippare dietro Arrivo dietro Arrivo dietro Sto attipando qua Sto attipando qua Sto attipando qua Ma ho trollato Mate Questo non è un buon fight Stai scherzando Ci sono io MF è zonata qua Puscia pucia mente Puscia mente Ho ultato Prendila Così scappa L'altra parte Vabbè è fine dai Guarda che la si può prendere Eh quello è un casino però Arrivo pure Diana Io ce l'ho ulti up Ma io in realtà C'ho la rely Credo che regalerò Basta non trollare E' super easy Anche perché scalano bene Io eviterei di trollare Io non posso più Andare il bot adesso Non c'ho il tp E lo sono dopo il tp Arrivo a gruppare con voi Io sono veramente strong Io vi ho ulti Diana Vlad fa un po' di danni Però non c'ho la zona Vi ho ulti Diana Ah patetico Devi solo prendere Diana Sì sì Se io possiamo lasciare No vabbè però è brutto Quella fa un po' di danni Più lad Diana forse è uscita Facciamoli venire Forciamoli a venire Non so se sia tanto buono Però Ma siamo molto più fratti loro No ma Vlad si fa i dati C'è l'ora fight è good Però Guarda l'ora blue buff Guarda l'ora blue buff Guarda l'ora vento Guarda l'ora vento Ho giarva Giarva è morto Possiamo andare Dici? Non lo so Io farei il Nash Allora Guardate voi il Nash Guarda non serve Di push a me C'ho pure l'elder qua tra quanto C'ho l'altra inhibitor da solo te? Sì dovrei C'è dipende da quanto tempo Sì 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 Modo di real Nash E non trovare Se fanno un TP Puoi restare in difficoltà Questo qua ho sbagliato Rimani io Vedrò che c'ho Recall del bar Arrivò Va bene Sto arrivando Dopo i buoni big wave Perdo un'occasione di CS Vlad alla zonia Sto luttando Sto luttando Gervani Finiamo il game Ma questa è ancora viva Lo so finiamo il game Finiamo il game Finiamo il game Finiamo il game Finiamo l'eraldo E' bello l'eraldo a vedere Dai Quanto non hanno la chance Lo so viva I 4 lo sto dal dog Alla maratona Ah 5 No così non finiamo più il game We can't Poi è possibile Forse è un po' l'amoramento No forse non si poteva andare Forse si però Chissà perché quello non si randano Ma se volete poter vincere Chissà perché quello non si randano Ma se volete poter vincere Eh ma la si è schiantata Siamo tre bot Ho scioperto Ho scioperto qua Ho scioperto qua Abbiamo usato i butti Eh sì Vado io o babbo qua? Andiamo tu? No io resto qua Non c'ho la ultima Dove vuoi? Dove vuoi? Ho giusto il game ma è già vinto Dica Lasciatevi il tube e prevenuto le gagne di gane Ma come ho fatto prima? Non faccio tenerezza Io non lo so So solo che so full vita Ho fatto tutto il mio Ma non può tenerezza Io ho cliccavo farsi a caso Ok DJ Nice E anche questa te l'ho carriata Ma che hai carriato? Ho sitato top E non sono andato pure in the top Di 30 CS Ma cosa hai carriato? Hai carriato 30 CS sopra in top Con un sit di 30 gank Hai carriato Mamma mia Noob GG mate Alla prossima Ci vediamo stasera per la screma Ah allora stasera Allora dopo dai No io pure di pomeriggio Però in solo streaming alle 7 Però mi sa che tu ci stai sentendo dopo Alle 9 immagino Si direttamente Ciao ciao bro Bella E' stata un piacere Ciao ciao anche per me Pro per master La faremo stasera In mezzo alle screma e le altre Veramente veramente un good game cazzo Veramente veramente un good game Io vi abbandono qua Io vi abbandono qua Ciao